Ricordate quella frase che in sostanza diceva così, non sono d'accordo con quello che dici ma mi batterò fino alla morte affinché tu possa continuare a dirlo. Ecco in questa frase c'è tutta l'essenza di quello che vuol dire essere liberi, fortunatamente vivere in un paese dove non ci sono regimi totalitari, dove si ha la possibilità di esprimersi, dove si può avere anche un pensiero diverso da quello che è la linea del pensiero unico, così no? Dovrebbe essere in democrazia, tant'è che il regime democratico c'è un'opposizione, una maggioranza, ci sono divergenze di idee e dalla differenza delle idee poi viene fuori, si presume, quella che è la cosa buona e così dovrebbe valere per tutti perché se no non possiamo ritenerci un paese libero. Allora quando leggi le notizie come quella letta oggi dove Roberto Vannacci, che ormai insomma immagino lo conosciate tutti, viene indagato dalla procura per istigazione all'odio razziale, questo è il capo in imputazione per cui si è avviata questa indagine. Per quale motivo ci sarebbe questa indagine? Beh perché ci sono delle associazioni che si sono ribellate, hanno detto all'interno del libro di Vannacci, ci sono delle frasi che istigano al razzismo ed ecco che è bastato questo per dire bene Vannacci indagato. Ora qui siamo di fronte a una vera e propria censura e nel 2024 sinceramente pensare che vengano censurati dei libri o comunque delle opinioni espresse all'interno di un libro è alquanto preoccupante, a me personalmente fa orrore, ma lo farebbe a prescindere. Ora al di là del fatto che io nutra una certa simpatia per Vannacci ma non per altro perché ritengo che sia una persona libera, una persona controcorrente, una persona che rispetta quello che ha scritto nel libro, su alcune cose sono d'accordo, su altre lo sono meno, però io rispetto la sua libertà di poterlo dire e rispetto anche il fatto che ci siano tante persone che invece non sono d'accordo con loro, con lui però questo fa parte del vivere, del vivere in un paese libero. Ora leggere che c'è un'indagine rispetto al contenuto di un libro, beh io non so se a voi non preoccupa perché qui siamo veramente di fronte a quello che è un bavaglio, un vero e proprio bavaglio. Ora che cosa abbia detto Vannacci di così da dover ristigare l'odio razziale? Io sinceramente l'ho letto il libro, io di stigazione all'odio ne ho trovato praticamente, non ne ho trovato traccia, ho trovato una persona che esprime una sua idea rispetto al tema dove dice attenzione che insomma stiamo subordinando le nostre tradizioni, le nostre culture per adeguarci a quelle che sono le culture degli altri, quindi occhio no? Quando togliamo i crocifissi, quando togliamo i presepi, quando il Natale, non lo chiamiamo più Natale ma la chiamiamo festa d'inverno, beh forse c'è un problema, quindi forse non è così tutto no? Rose e fiori ma un suo punto di vista che può, su cui si può essere d'accordo o meno, ma portare a dire che lui forse probabilmente dovrà subire un processo, non lo so, mi auguro di no, ma anche solo nell'intenzione, perché ha espresso un suo parere su questo, beh io lo trovo abberrante e sinceramente mi preoccupa, dice signori ma che fine stiamo facendo, cioè quale società vogliamo, voi non so se voi visto che si sta parlando di libri abbiate letto Orwell 1984, un libro straordinario, il ministero delle verità, il grande fratello che controlla il pensiero unico, tutto doveva essere in un'unica direzione, lui che aveva fatto, aveva svolto questo sguardo al futuro, in quella che sarebbe stata una società e oggi ci troviamo perfettamente, è la dimostrazione plastica di quello che aveva predetto Orwell in questo libro, tra l'altro scritto nel 49 e ci troviamo qui perché quando troviamo un vannacci che ripeto può stare simpatico, antipatico, ci può piacere, possiamo essere d'accordo con quello che ha detto, possiamo totalmente essere in disaccordo, ma pensare che una procura apra un'indagine per i contenuti di un libro, io non so voi cosa ne pensiate, però io lo trovo veramente, mi ha lasciato, ho detto attenzione, non che diciamo me ne sia accorta oggi perché comunque in questa deriva ci siamo già dentro da un po', però abbiamo vannacci, ci sono europee vicine, elezioni e quindi no, scientifica, come si dice, la magistratura orologeria ha scandito il tocco anche a questo giro, ma leggere che se delle associazioni vanno e dicono attenzione, vannaccia, è stigato all'odio e la procura apre un'inchiesta, beh forse un problema c'è.